Buongiorno, Formez è il centro servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'associazione di pubblica e amministrazione, ce ne sono ben 62, quasi tutti i ministeri, alcuni organi costituzionali, la maggior parte delle regioni e le città e le città metropolitane. Noi approfittiamo del ciclo di interventi che stiamo organizzando per approfondire le tematiche del rapporto annuale che abbiamo presentato lo scorso 2 febbraio per essere qui a Palermo, in regione siciliana, con cui abbiamo un consolidato rapporto da molti anni. Oggi parleremo di tradizione digitale e di quelle che sono le tecnologie di frontiera che devono trovare sempre maggiore applicazione anche all'interno della pubblica amministrazione, in particolare dell'intelligenza artificiale. Stiamo organizzando una serie di attività che rappresenteremo e che hanno anche un impatto sulla regione siciliana. Questo è il progetto FAST che utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare e per migliorare l'attività di quei comuni che per le loro dimensioni, per le loro caratteristiche, hanno necessità di essere supportati e assistiti.